Oramai non è più una sorpresa. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, sembra aver preso a cuore il tema mezzi di trasporto nella capitale. Infatti, andati in porto i due rivoluzionari progetti, Upper Bus e Night Tube, Khan ha pensato ad una Londra ciclabile al 100%. Per realizzare questo progetto, il sindaco ha promesso un investimento di ben 770 milioni di sterline. Una buona fetta del budget della Transport for London. Sigla! Le idee per rendere Londra ciclabile non erano certo mancate neanche sotto la gestione di Boris Johnson. L'ex sindaco, infatti, aveva aperto la strada a Khan per una Londra ciclabile con la Standard Bikes e la Seacole Super Highway. Il buon Sadiq ha deciso però di spingere ancora di più in questa direzione conscio dei benefici che una città ciclabile porterebbe. In primis, un abbassamento necessario del vertiginoso tasso di inquinamento, per esempio, piste ciclabili più sicure. In cantiere sono infatti in sviluppo due nuove Seacole Super Highway e l'estensione delle precedenti. D'altra parte, aveva già promesso, prima di essere eletto, il raddoppio dei fondi annui destinati alla ciclabilità a Londra e la chiusura di Oxford Street al traffico. Immaginate un po'. Altra prerogativa del neosindaco è quella di triplicare il numero delle piste ciclabili protette entro il 2020. Tra i piani ci sono due nuove superstrade ciclabili, sulle quali i ciclisti sono separati da traffico, cordoli e semafori. La superstrada A4 andrebbe ad unire Tower Bridge ed Olimpia, mentre la superstrada A9 collegherebbe Olimpia a Huslaw. Khan ha progettato inoltre una Mini Holland, una vera e propria rivoluzione che prevede un uso limitato dei mezzi a motore e renderà Londra ciclabile anche in periferia. Un'idea che sembra avere grandi consensi dal momento che negli ultimi anni il numero di auto si è sensibilmente ridotto. In futuro, quindi, potremmo assistere ad un profondo cambiamento nella capitale britannica e Londra, famosa da sempre per la sua tube, potrebbe trasformarsi in una meta degli amanti delle bici al pari di altre capitali europee. Vedremo mai quindi una Londra ciclabile al pari che so di Amsterdam o Copenhagen? Fino ad ora i numeri sono tutti dalla parte di Sadiq Khan. Il sindaco inoltre, per essere sicuro di riuscire ad affrontare con successo quella che sembrerebbe un'impresa, ha annunciato su Facebook di avere eletto un Bike Manager. La scelta è caduta su Will Norman, attuale direttore della partnership globale con la Nike. Norman sarà già al lavoro da febbraio 2017 e il suo compito è quello di convincere i londinesi ad utilizzare sempre di più le loro biciclette. Con queste premesse, non ci resta quindi che acquistare una nuova bicicletta in vista dei prossimi cambiamenti nella capitale inglese. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube. Oppure se lo stai guardando da Facebook, mi raccomando, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare il tasto Mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!